Grazie a tutti voi che avete accolto il nostro invito e grazie anche a chi ci segue in diretta strinita. Si presenta oggi un bel libro scritto da Matteo Cosenza, Il compagno Saul, ed è un libro, io credo, di grande interesse, sia per chi ha conosciuto direttamente Il compagno Saul e la sua esperienza, e sia anche per i giovani e per le nuove generazioni che a quella esperienza possono in qualche modo fare riferimento. Lo presentiamo questa sera con il mio figlio Matteo, autore del libro, che ti ha la mia spalla, e con tre giornalisti significativi della nostra realtà, Gigi Di Fiore, giornalista, iscrittore e appassionato, le vicende storiche della nostra realtà, il mattino, e Gimbo Cuomo di Castello al mare e del Corriere del Mezzogiorno. Io comincerei senz'altro e darei la parola subito a Gigi Vicinanza, che tra l'altro ha scritto l'introduzione al libro, e quindi può anche darci un suo cuore. Grazie.